Ciao a tutti amiche ed amici Bene sì mi è venuta voglia di fare gli gnocchi Non li faccio molto spesso Però questa volta voglio farli Seguirò le indicazioni della mia amica Giuliana Quindi ho lessato le patate Vedete ho messo delle patate gialle a pasta gialla Delle patate a pasta rossa Queste me le hanno regalate Quindi una produzione bio Allora le schiaccio ancora calde Non bollenti però ancora calde Dopo averle pelate naturalmente Le ho pesate sono poco più di 500 grammi All'incirca 550 Allora uso questa farina Ne metto soltanto 150 grammi Poi se serve L'aggiungo Mentre li lavoro velocemente Ci metto un uovo L'uovo è delle nostre galline Un po' piccolino ma va bene così Di solito ci si mette un uovo Per un chilo di patate Ammasso velocemente Non debbono essere lavorati tantissimo La farina vedete Quella che si tira Però questa è la dose giusta Ho accelerato un pochino il video Ed ecco qua Un altro pochino E sono quasi pronti La farina se serve Ne metto proprio pochissima Adesso pulisco un pochino la tavola Si erano attaccate un po' di patate Ce ne metto proprio pochissima Dicevo Al limite la metto anche sulle mani Altrimenti vengono duretti Invece con questa dose Rimangono morbidi Ok Ho preparato i rigagnocchi Ma non è necessario Potete anche farli Normalmente Senza rigarli Ne stacco un pezzetto E lo allungo Un po' di farina ci vuole Perché sono abbastanza morbidi Li allungo così Vabbè è semplicissimo Farli Importante è dosare bene Gli ingredienti Allora avete visto Li ho abbassati con la mano Però Se vogliamo possiamo lasciarli così Mia madre faceva così Con la mano così Ci vengono i segni delle dita E ci regoliamo anche un pochino E ci regoliamo anche un pochino sulla grandezza Questi diciamo che sono Sono abbastanza Grandicelli Li passo sul Sul rigagnocchi In questo modo Con questo attrezzo ci faccio anche Gli gnocchetti sardi Però naturalmente Quelli sono fatti soltanto con la farina ed acqua Se li vogliamo più piccolini Facciamo Il cordoncino un pochettino più sottile Ecco in questo modo Io gli sto facendo vedere Anche come farli più piccolini Ok Continuo Allora io di questi gnocchi Ne surgelerò un po' Perché per me e mio marito Naturalmente sono troppi Per surgelarli Basta metterli in un vassoio Anche quelli di alluminio Allargati Quindi anche due vassoietti Li metto nel surgelatore Poi una volta che si sono ghiacciati Li tolgo Li metto tutti Dentro una busta Adesso continuo E una volta pronti Mi vado subito a preparare Il condimento Io userò un condimento Questa volta Semplice Molto semplice Solo pomodorini Pomodorini del nostro orto Però se volete Gli gnocchi classici Si fanno al ragù Ecco qua Ho scaldato un po' di aglio E peperoncino E olio evo Estravergine Naturalmente E ci ho buttato dentro Un po' di pomodorini Eccoli qua Questi sono i miei I nostri pomodorini Come bolle l'acqua Li metto dentro E basta pochissimo Per cuocere i gnocchi Due o tre minuti Quando vengono a galla Sono pronti Li butto nella padella E li faccio saltare Con il pomodoro Ed eccoli qua Se volete Potete mettere Un po' di parmigiano Ma in questo caso Metterei il pecorino E un bel bicchiere Di vino rosso Ci sta Bene amici Una ricettina Molto semplice Naturalmente Ciao a tutti E ci vediamo Al prossimo video Buon appetito Ciao a tutti